Ultimi giorni per il Molise in fascia gialla da lunedì 31 maggio il passaggio in zona bianca che vorrà dire niente più coprifuoco e riaperture di tutte quelle attività che sono ancora chiuse comprese le piscine le palestre con il divieto dell'uso delle docce le sale gioco e scommesse i parchi divertimento il settore del wedding per la riapertura delle discoteche bisognerà attendere invece il primo luglio quando tuttavia potrebbero essere richiesti il green pass o il tampone. Sulle zone bianche dunque è stato raggiunto l'accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni al termine dell'incontro che si è svolto tra il Ministro Speranza e il Presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga una riunione alla quale hanno partecipato anche il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero Rezza e il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro. Si allentano quindi molte delle restrizioni che hanno caratterizzato questo anno in mezzo di pandemia ma restano l'obbligo delle mascherine, il distanziamento e la sanificazione dei luoghi chiusi. Una notizia che come era prevedibile è stata accolta con sollievo dagli operatori che tuttavia lamentano la mancanza di linee guida a cui dovranno attenersi. Stiamo aspettando da troppo tempo la denuncia di Mauro Di Salvatore, capo delegazione Federmep Molise, la federazione che racchiude gli operatori del settore del wedding. Non sappiamo cosa fare e cosa rispondere ai tanti sposi che chiamano per avere risposte sull'organizzazione dei loro matrimoni. In effetti mancano risposte sul numero massimo ammesso alle cerimonie senza considerare poi la questione del Green Pass di cui al momento si sa ancora poco. Di tenore diverso invece le dichiarazioni di Coldiretti, secondo cui lo stop al coprifuoco, rappresenta una manna per il settore della ristorazione messo a dura prova dalla pandemia. In le vie libera, pranzi e cene anche al chiuso, ha ricordato la Confederazione degli Agricoltori, consente la riapertura di circa 180.000 attività del settore della ristorazione disseminate lungo tutta la penisola che non dispongono di spazi all'aperto. Intanto il Molise, il Friuli, Venezia Giulia e la Sardegna si preparano a un graduale ritorno alla normalità nelle settimane successive e toccherà alle altre regioni. Sul fronte della campagna vaccinale, il presidente della regione Tom ha annunciato che già da lunedì prossimo sarà possibile la prenotazione sulla piattaforma per la fascia di età compresa tra 40 e 49 anni, mentre il 2 giugno potrebbe essere la data scelta per l'Astra Day. In quell'occasione chiunque potrà vaccinarsi presentandosi senza prenotazioni. Insomma, tutto sembra andare per il meglio, ma occorre sempre ricordare che il virus non è stato ancora sconfitto e quindi la prudenza non dovrà mai abbandonare il comportamento di ognuno di noi.